il premio migliore in campo va a Serena e richiusa un primo piano un guanciale in fibra di poliestere height performance l'unico guanciale che si può lavare quindi dormirai molto bene un guanciale offerto dalla casa del corredo a Roberto Scalo lo daremo in una seconda occasione mentre mi sistemano in zona utile altrimenti non si vede niente questo è il guanciale questa è Serena richiusa nel suo splendore ti premiamo come migliore in campo oggi si è stata perfetta soprattutto in battuta abbiamo visto che hai fatto molto male la squadra ospite eh sì ci stiamo lavorando col nuovo mister abbiamo fatto molta battuta e ricezione in guarda la telecamera se no annunzio il tuo annunzio le cause e ci rimprova ma dov'è la telecamera? La telecamera è là guarda ah ciao e niente sì stiamo lavorando bene eh abbiamo lavorato anche in battute quindi si vedono i risultati ecco eh tutto il lavoro credo studiato in settimana certo perché avete insomma avete mirato e avete fatto male sì sì eh come si suol dire il gioco inizia dalla battuta quindi quella è un fondamentale importante ecco settimana dopo settimana ti vediamo sempre determinato lo sei stata sempre se infatti ti hanno dato un soprannome spisibile che che già è un programma giusto quindi si è stata sempre molto determinata però l'intesa gara dopo gara con una palleggiatrice come Giulia Agostinetto insomma ha fatto sì che anche dal centro si comincia a marcare bene eh ci vuole non perché sono un centrale perché il gioco dal centro ritengo che sia sempre importante ai fini della squadra sì eh sì però sono contenta da questo punto di vista come ti trovi con Giulia Agostinetto benissimo penso che di meglio non potresti trovare va bene vi ringraziamo complimenti ancora per la prestazione grazie